Ed è già finita questa puntata di Fuego, direttamente al Teatro Nazionale di Milano dove adesso sta per cominciare questa maratona sui Simpsons e che andrà avanti quindi fino all'alba Senti, quindi siamo in chiusura, in definitiva ho una notizia da dare Niente, sto per diventare un protagonista cinematografico perché i Simpsons andranno anche al cinema nel 2000 con un film meraviglioso Simpsons, insimamente bello Quindi questo è un anteprema, uno scoop che abbiamo, presto vedrete i Simpsons al cinema Ma tu non ti senti troppo cattivo a volte nelle tue azioni, Omer? Ma neanche per idea, io sono Omer, non faccio nulla, sono Omer Facciamo una piccola risatina, salutiamo tutti Prima quella di Omer E poi quella di un altro E con Eddie Murphy e Omer Simpson, Tonina Colla, noi vi salutiamo, vi lasciamo in compagnia di Sabrina Il fuoco termina qui, a domani ragazzi Bye bye